Valentin Bravo amava essere scapolo, finché non incontrò una ragazza a cui non poteva resistere. Valentin? Sì? Lei è tua figlia. Che? Avresti 10 dollari per pagare il taxi. Arrivo. Non sarebbe capace di lasciarti qui, no? Oh sì. Vediamo? Mi ha scritto una lettera? Ti mando un grande bacio da L.A. Che cos'è L.A.? Beh, latinoamericano. La vita finisce con un bambino. Popo, popo. Io voglio vivere. Sorpresa! E devo cercarmi anche un lavoro per mantenerla. Te la fai sotto? Ma che dici? Sto concentrando. Pronto? Sì, sono pronto. Cominciamo. Divertiti, amico mio. In bocca al lupo, papà. E... azione! L'ho notato anch'io, papà. Sembravi molto spaventato. Rifacciamola. Azione! Il film che ha trovato la formula del successo. Guarda, Maggie. Una lettera della mamma. Cara Maggie, ti scrivo a bordo del sottomarino nucleare Pancho Villa II. Maggie ha tanti problemi perché vive in un mondo di fantasia. Questo me l'ha portato mia madre dalla luna. Che cosa è successo realmente alla madre di Maggie? È andata a pagare il taxi. I miei amici dicono che la mamma è come Babbo Natale. Perché non l'ho mai vista. Ho bisogno del tuo aiuto. Maggie deve incontrare sua madre. La numero 13, per favore. Come si chiama? George. La prossima! Oltre 50 milioni al box office americano. Una grande storia. Sono la mamma di Maggie. Vieni a trovarmi la mamma! Vieni a trovarmi la mamma! Sulle piccole sorprese della vita. Il mio papà è molto coraggioso. Perché me lo vuoi portare via? Perché è mia figlia. Io voglio vivere con te per tutta la vita. Preparatevi a farvi travolgere dalla commedia dell'anno. Quando puoi venire a dargli una controllata? Più tardi. Quella ragazza è distratta. Lo scarico del suo lavandino è sempre tappato, vero? Instructions Not Included. Dal 26 giugno al cinema. E con Instructions Not Included vinci Mirabilandia, il parco di divertimenti più grande d'Italia. Scopri il regolamento ai premi su IndiePictures.it Benvenuti. Oggi parliamo di Guillermo del Toro, che ha annunciato ufficialmente di essere a lavoro sullo script di Pacific Rim 2, seguito del blockbuster campione di incassi dello scorso anno. Arriva anche la conferma che la pellicola sarà un vero e proprio sequel del primo film, mettendo quindi a tacere i rumors di un possibile precursore. Non rimane che attendere notizie sull'inizio delle riprese da parte di Lionsgate, quindi continuate a seguirci. Ciao a tutti!